Va bene, c'è una intervista 1? Ehi la! Uoi Fra, come stai? Bene, tu bellezza? Tutto bene! Bello qui oh! Vero? Un bello caletto! Belli anche questi! Indovina per chi sono? Per noi? Qual è il mio? Secondo te? Questo! Esattamente! Li prendiamo e li andiamo a bere di là insieme? Molto volentieri! Tu sei un attore, uno scrittore, ti sei affacciato inizialmente al mondo del teatro, e ora è spopolato al cinema con il tuo nuovo film, va bene così. Ci vuoi raccontare un po' di idee come nasce il personaggio di Francesco? Ma certo! Guarda hai detto bene, infatti io faccio un sacco di cose diverse, per cui i vari personaggi e le varie cose sono nate tutte in momenti diversi. Sì, sì ho iniziato col teatro da quando ero piccolo piccolo, proprio in parrocchia, cioè quando avevo 7-8 anni e andavo a fare i corsi di teatro dopo l'oratorio eccetera, ho continuato per tutto il liceo e dopodiché mi sono diplomato a un'accademia di teatro perché il mio sogno era recitare e fare teatro, poi ho iniziato a lavorare effettivamente nel teatro anche a livelli abbastanza buoni e ho capito che non si guadagna una lira. Per cui in un modo o nell'altro ho dovuto dare una forma poi diversa, chiaramente non solo per quello ma perché poi il teatro in Italia ha anche un problema in un certo senso, cioè che tendono sempre a fare cose un po' vecchie, cose un po' riviste, quindi alla decima volta mi hanno proposto la locandiera dei Goldoni e ho detto guardate un attimo e ho iniziato a scrivere un po' per me dei testi teatrali e a metterli in scena. È stato bello anche a fare la regia, è stato bello, è stato emozionante, abbiamo portato in un po' di teatro prima piccoli poi sempre più grandi e finché a un certo punto un regista ha visto uno dei miei testi e mi ha detto che secondo lui ero molto bravo a scrivere, io non avevo mai studiato poi per la scrittura, ma mi sono messo alla prova tramite questo regista e mi ha dato la possibilità di fare due film che sono stati molto importanti, particolari. Avevo 25 anni e mi approcciavo a questo genere che per me era il demonio perché erano i cine panettoni, però sono anche un po' poi la serie A del cinema italiano, quindi mi hanno aperto un sacco di porte e ho scritto due film di Lillo e Greg, i due film di Natale di Lillo e Greg che sono andati molto molto bene e da lì ho avuto la possibilità di essere diciamo ascoltato un po' dai produttori, di avere un po' più di potere diciamo nel presentarmi, perché chiaramente un ragazzo che busta alla porta di un produttore manco di rispondono al citofono, un ragazzo che invece ha incassato dei soldi tramite una scrittura, per quanto io soffrivo perché poi tutti i miei amici fai cine panettoni, però in verità è stata una cosa che mi ha aperto tantissime tantissime porte, mi ha insegnato anche tanto e fra l'altro anche i film secondo me erano molto carini, erano delle commedie molto divertenti, infatti il pubblico le ha premiate e da lì sì ho iniziato a pensare che avrei voluto stare anche un po' dall'altra parte della macchina da presa, ho scritto il mio primo film e sono riuscito a metterlo su, devo ringraziare il produttore, si chiama Alessandro Tre Rai insieme alla Vargo Film, che mi hanno dato questa enorme possibilità perché un'opera prima è sempre poi molto controllata, invece ho avuto piena libertà nello scegliere il cast, nello scegliere la troupe, nello scegliere la storia, nello scrivere, ho scritto il film da solo, anche questa è una cosa che non succede spesso perché ci sono i gruppi di scrittura, diciamo si tende sempre un po' più a accontentare un pubblico e questa era una cosa che a me mi faceva rosicare da morire, perché per me scrivere o comunque creare qualcosa non è che poi deve andare su Netflix e lo deve vedere il massimo più gente possibile, quello ovviamente è un risultato che tutti ci auguriamo, però secondo me scrivere è più una visione, è più un rischio anche che un autore si deve prendere, cercare il compromesso per piacere al pubblico crea tutti i prodotti un po' uguali o comunque non dà una visione, non dà un punto di vista, non ci sarebbero stati i grandi film della storia se si fossero messi tutti insieme a scrivere copioni per cercare qualcosa che funzionasse per la gente, ma invece hanno fatto i film di Pasolini, di Fellini, di Monicelli con delle visioni chiarissime e sono quelli da cui noi ora prendiamo esempio e copiamo palesemente ma cercando sempre poi di aggiungere una cosa che sia più fruibile per il ragazzino invece ho avuto questa possibilità incredibile e meravigliosa di scriverlo da solo, quindi di portarla un po' avanti questa cosa e di dare una mia visione anche prendendomi poi i rischi di quello che sarebbero stati perché io ho fatto questo film, ho scelto tutto, ho deciso tutto e se poi piaceva era perché ero stato bravo io, se non piaceva era perché non ero stato bravo io e volevo anche questo perché era il primo approccio che avevo con la regia che secondo me è una cosa molto importante, una cosa che va rispettata quindi è giusto anche che la faccia chi la sa fare fondamentalmente e io non volevo una rete in questo, cioè non volevo un appoggio, una sicurezza volevo mettermi alla prova e così è stato, ad alcuni è piaciuto, ad altri è piaciuto meno, però sono contento che ho fatto quello che volevo fare e non posso prendermela con nessuno nel bene o nel male poi sì, il film è andato molto bene, è andato molto bene anche perché aveva quel sapore un po' diciamo aspro e dolce della vita, agrodolce per l'appunto perché racconta proprio in un certo senso quello che possiamo provare noi durante insomma le nostre relazioni, la nostra esistenza quotidiana sì, ma per me il film rispecchia moltissimo un po' il mio stile anche di scrittura che è la cosa che poi mi hanno sempre detto perché è uno stile molto realistico, cioè nel senso se c'è l'eroe della storia al giorno d'oggi non è quello che va lì e fa adesso io sconfiggerò, è molto umano, cioè nel senso se mi approccio io a una storia gangster e immagino io in una situazione del genere non è che andrei lì e farei tipo adesso chiamo le forze e vi uccido tutti, farei tipo ma perché mi avete messo in mezzo a me e inizierei a scappare quindi diciamo il mio stile sì è agrodolce, cioè racconta la vita, racconta la verità ma anche con le goffaggini che ci sono dentro con le cose che poi fanno sorridere e che ti danno anche modo di continuare a vedere quella storia, non dargli soltanto un colore e poi appunto io, è strano perché io volevo scrivere i drammoni, sto a teatro, volevo fare le cose di Shakespeare tutti alla fine morti, insanguinati e invece mi sono ritrovato a scrivere i cinepanettoni che era proprio il contrario quello che casca sulla buccia di banana, quindi ho detto come faccio a mettere insieme e ho capito sia che il drammone in sé per sé non funzionava, o comunque funzionava, se sei Shakespeare, ancora no e che anche il film comico scivolata su buccia di banana e che caschi su un rastrello funziona relativamente quindi ho detto proviamo a mettere insieme queste due cose e infatti il film è particolare perché inizia che sembra un commedione anche a livello fotografico, anche a livello di immagine e lentamente va ad arrugginirsi, abbraccia dieci anni di storia la storia proprio del film e così come il tempo, come la vita, come tutti noi diciamo è come se anche l'immagine un po' invecchiasse, è come se la storia, i toni, inizia con una spensieratezza che è tipica di uno che ha 25-30 anni e finisce con quello che è diventato 35-40 anni che è un po' più disilluso, non è più felice come prima, infatti il titolo va bene così fondamentalmente non è negativo, alcuni hanno preso negativo come a di vabbè, piglia quello che capita invece no, invece bisogna essere felici nel momento in cui si sta vivendo una cosa in particolare o bisogna comunque essere su quel momento, non pensare al primo o dopo perché tanto fondamentalmente la vita sistema le cose in maniera così inaspettata e così assurda che è inutile stare a calcolare e stare... e quindi rispecchia un po' queste due cose inizia quasi delle gag, in verità, cioè appunto da una spensieratezza, piano piano diventa un drammone devastante e sono contento di aver messo insieme queste due realtà nel film e sì, rispecchia un po' il mio stile di scrittura questo E visto che mi hai citato gli eroi, parlando di eroi per Francesco nella vita, chi sono gli eroi? Per me gli eroi, eroi a cui mi sono ispirato nella mia... per me gli eroi nella mia vita personale sono alcuni dei miei amici, sono i miei fratelli, sono le persone che mi insegnano qualcosa per quel che riguarda il mio percorso artistico sono un po' particolare i miei eroi, i miei esempi diciamo I miei personaggi, in un certo senso che ti hanno ispirato Sì, ti direi cinematograficamente o se vogliamo fare i seri, mi ispiro molto ai film di Muccino, ai film di Ospetek sono realtà che quando ero piccolo mi hanno detto sì, voglio fare questo, voglio raccontare e stare in questo modo personaggi che mi hanno ispirato invece più emotivamente questa cosa mi fa molto ridere perché mia madre si arrabbiava i miei miti sono Amy Winehouse e Jim Morris, sono proprio sopra ogni cosa e mia madre faceva, ma te che hai 20 anni non ti può piacere uno che non è morto 27 anni di alcol e di droga ma non era quello, a me la cosa che mi affascina per esempio per me Amy Winehouse è tipo una... indipendentemente dall'essere cantante, dall'essere così dannato, dall'essere una drogata o dall'essere quello che era, per me Amy Winehouse mi piace per quello che ha fatto su di me cioè per quello che ha dato a me, nel senso mi ha dato un'ispirazione e mi ha dato modo di... non lo so, di credere in un certo senso in me stesso ma anche mi ha dato delle emozioni attraverso la sua musica, attraverso alcune cose per cui indipendentemente da chi era lei io vorrei che se anche una persona con un mio film o con un qualcosa, un testo mio riesco a dare anche a solo una persona quello che hanno dato questi miti per me è quello il risultato a cui vorrei arrivare quindi indipendentemente da quello che hanno fatto è per me è proprio la sensazione, la forza che mi hanno dato nel voler fare quello che volevo e questo è quello che poi vorrei dare cioè davvero, io feci uno spettacolo quando ero all'ultimo anno della scuola di teatro si chiamava La musica rimane, l'avevo scritto io e successe questo, venne una ragazza, poi mi scrisse ho visto il tuo spettacolo, per me sono state tantissime emozioni, tantissime cose io mi ansia di rotto perché era proprio esattamente quello cioè avevo fatto scattare qualcosa e questa mi aveva detto, ah mi ha fatto proprio venire voglia di libertà io adesso invece sì, devo prendere in mano le... ho detto, cavolo, ma veramente, che bomba questa cosa e quindi sì, le persone che mi hanno ispirato fondamentalmente sono le persone che mi hanno dato coraggio che mi hanno dato delle emozioni fondamentalmente delle emozioni che sapevo di poter vivere in un certo senso solo io, cioè riguardo quella cosa anche una cosa piccola che vedi in un film o che vedi in una... o leggi in un libro e ti cambia un pochino per me è quello il traguardo poi di ogni autore indipendentemente dal guadagno, dalle cose che si sa è un lavoro in cui a volte va bene, a volte va male per me davvero adesso l'importante è dare delle emozioni anche a uno, anche a due, anche a tre persone che non conoscerò mai e quelli che hanno fatto questo con me sono quelli che sono i miei esempi, diciamo e sono per lo più sì dei tossici, dei drogati però questo è un altro discorso esatto, il teatro ti ha aiutato a visualizzare le tue emozioni a renderle in un certo senso consce, parte di te e credi che il teatro sia in un certo senso il mezzo attraverso cui i ragazzi, i giovani d'oggi possano interiorizzare le proprie emozioni e poi affrontare anche dei drammi che fanno parte della vita assolutamente, il teatro mi ha dato tantissimo e per me rimane il mio grande amore e il mio primo amore infatti io vorrei riuscire ad avere un nome, una sicurezza in questo campo per poi fare teatro io vorrei troppo fare una fiction di dieci anni che mi pagano un sacco di soldi e intanto io faccio i teatri, i miei spettacoli le mie cose scritte da me perché chiaramente il teatro non c'è tutto questo seguito non c'è tutta questa voglia e lo capisco anche perché poi l'offerta, come dicevo prima, è limitata però il teatro è tutto dentro il teatro c'è tutto fondamentalmente c'è un motivo se esiste da migliaia e migliaia di anni perché sia nella scrittura sono sempre stato uno che ci tengo a essere sincero quando scrivo delle cose a essere, diciamo, concreto, realista perché mi piace questo tipo di stile non amo la fantascienza non amo le cose fantasy non amo molto mi piace stare sulla concretezza sulle storie vere e il teatro mi ha insegnato questo perché il teatro è una scatola fondamentalmente è una scatola di quattro pareti in cui dentro può succedere di tutto e tu devi riempire quella scatola con della verità con un contenuto però è proprio uno spazio piccolo e quindi in anni e anni dicevo come si può riempire questa cosa in che modo si può creare una storia che sia credibile dentro uno scatolone e questo poi mi ha aiutato anche nella scrittura per il cinema, per la tv perché non dimentichi mai che c'è un posto che c'è un tempo e che non è che tu puoi scrivere sto qua e poi vado sulla nave su Marte, sulle cose perché sì, però bisogna sempre mantenere anche un discorso dei costi, dei film di cose quindi stare un attimo in un posto questo mi ha insegnato il teatro e poi a me il teatro mi ha insegnato cioè mi ha liberato tantissimo e per questo io lo consiglio ho anche insegnato per qualche anno ai bambini il teatro ed è stato forse ancora di più in quel periodo di quando lo facevo io perché il teatro è un luogo di incontro bellissimo in cui come per magia la gente si sente libera di tirare fuori delle cose guidati chiaramente quando ci sono dei bravi insegnanti dei bravi tutor ma ti dà la possibilità di di tirare fuori delle cose senza paura l'ho visto nei bambini l'ho visto in miei compagni di corsi l'ho visto in persone adulte come diceva Elio Germano di recente disse una cosa molto bella disse che il teatro ti insegna a metterti nei panni degli altri ti insegna l'empatia esatto cioè tu vivi i problemi di un'altra persona per quanto certo non nella realtà però il teatro rappresenta archetipi archetipi di gioia archetipi di dolore sono sensazioni proprio primordiali ed è importante conoscere questa sensazione per me è stato importante fare il carbonaro di Luigi Magni a teatro che era l'eroe positivo ed è stato importante fare Re Claudio che è il cattivo dell'Amleto che è una persona malvaggia perché impari qualcosa da tutto fondamentalmente però questi sono capito c'è il bene, c'è il male, c'è l'inganno c'è il buono, c'è il cattivo è come razionalizzarli in un certo senso e te li porti appresso per tutta la vita poi questa sensazione questa chiarezza nei rapporti quindi se il teatro io vorrei tornare sempre al teatro vorrei fare sempre teatro e farlo e anche ridargli un po' e anche scrivere per il teatro storie che siano più contemporanee perché secondo me la voglia c'è era chiaro se ti invitano a vedere l'Ubure no, che bellissimo però abbiamo visto un sacco di volte quanto ti porti dietro dei tuoi personaggi quelli che interpreti? allora mi porto quando faccio teatro tantissimo quando faccio teatro tantissimo spettacoli magari durano un mese tantissimo e rimango dentro il personaggio e vivo così quando facevo il carbonato giravo così con le basette e con la matita nera continuavo i orecchini ancora sono di di quello spettacolo per cui rimango tanto poi ci sono cose che invece ti rimangono per forza di cose non è teatro non è ma quando ho fatto Tommaso Paradiso con le coliche è un personaggio che non avrei mai voluto non siano a portare mi ha perso ma mi chiamano Tommaso per strada quindi ma come nasce Tommaso Paradiso? Tommaso nasce qui dentro pensa perché nasce in modo particolare ci sono i ragazzi delle coliche che sono dei miei amici sono dei comici fantastici hanno questa pagina molto molto seguita vabbè li conoscono tutti e avevo iniziato a fare dei video con loro comici così poi un giorno Liliana Fiorelli che è un'attrice e un'altra nostra amica è quella che poi fece Levante l'imitazione di Levante si disse stavamo qui che è bene una cosa ma voi sembrate proprio dei giornalisti e io ero molto amico di uno dei giornalisti quindi conoscevo un po' il loro contesto perché non facciamo abbiamo fatto questa parodia questa imitazione siamo divertiti da morire abbiamo girato a Anzio la regia era di Giacomo Spagoni che per me è un genio perché veramente con una telecamera piccola ai tempi poi era veramente che le macchine fotografie fanno i video e niente e solo la sua arte ha creato un sacco di cose divertentissime con effetti e quindi caricammo questo video che era riccione la parodia del loro tormentone ma io non avevo nessun approccio anche al web al discorso YouTube queste cose web star non avevo idea qui chiamano io poi vado al Circia mi chiamo e il giorno dopo dico ma sei contento ma di che hai fatto un milione con le visualizzazioni un giorno tipo che vuol dire un milione ha fatto decine di milioni di visualizzazioni quel video e quindi abbiamo chiaramente ed è stato bello più che altro il riscontro delle persone cioè a parte i ragazzi i ragazzini che si divertivano eccetera ma tanti messaggi belli di persone che magari stanno passando momenti difficili e ti scrivono mi hai fatto fare un sorriso in questo ho detto cavolo vedi è stato anche strano perché io appunto nasco come attore e io volevo essere un attore serio io volevo essere borghi cioè nel senso io non volevo essere tipo oh quello che faccio io volevo essere borghi l'attore bello strutturato bravo tipo e quindi però sapevo che in verità funzionavo di più sul comico sulla comicità e ci ho dovuto combattere un po' con questa cosa perché io non volevo fare le cose che fossero perché volevo darmi quel tipo di tono finché a un certo punto soprattutto grazie a questi video ho detto senti io smollo questa mia scorsa che mi voglio dare ho detto giochiamo divertiamoci fondamentalmente perché non devo mettere in campo quello che sono e allora ho fatto questo video e per me è stata davvero una sfida forte perché rendersi un po' ridicolo fondamentalmente era una cosa che non avrei mai voluto fare invece ho imparato che si può fare anche con grande dignità e soprattutto che può dare tanto alle altre persone far ridere far sorridere e che non è che far ridere vale meno di far piangere per cui mi si è aperto un mondo da lì e quello è un personaggio che mi è rimasto e che mi rimarrà addosso per sempre ma sono ben contento fondamentalmente e poi sì ma io poi ho una cosa un po' particolare che ogni personaggio ogni cosa che sia teatro tv o cinema tengo sempre un oggetto perché mi piace mi piace avere un oggetto di quel personaggio ho fatto a casa pieno di cianfrusaglie tipo una corda tipo così con cui mi impiccavano uno spettacolo tutte però sono tanto affezionato a tutte le cose che ho fatto e l'ho fatta sempre con grande passione diciamo gli ho sempre dato molto corpo un po' i personaggi che ho fatto e li tengo tutti abbastanza dentro quindi sì c'è un luogo dove nascono i tuoi personaggi un luogo del cuore dove tu ti dati scrivi creai sì per me è molto importante in verità quando ero più piccolo abitavo sull'Aurelia e quando abitavo con i miei genitori che era l'inizio che ho iniziato poi appunto avevo 23-24 anni e ho iniziato a scrivere per il teatro e c'è un parco lì sull'Aurelia dove andavo sempre con una panchina tutto coperto da fratte che nessuno vedeva io mi piazzavo lì e mi mettevo a scrivere e stavo proprio bene cioè era come se quel posto mi ispirasse poi abbiamo cambiato casa e ho sempre cercato io dei luoghi che mi dessero questa ispirazione e beh chiaramente il Circeo che per me è proprio il posto del mio cuore dove ho scritto tutto il mio film cioè il mio film sono andato al Circeo stavo tre mesi tipo così era ottobre-novembre quindi anche freddo stavo proprio barba lunga mutando ho detto non esco di casa perché non ho finito stavo tre mesi a scrivere lì col mare d'inverno e quindi adesso il Circeo mi ispira tantissimo quel parco ogni tanto ci ritorno quando devo fare delle cose importanti parto da casa dico col Mac con il computer dico là tipo pazzo dentro del parco così però per me anche sì ci sono dei luoghi che mi ispirano questi sono dei luoghi che mi hanno ispirato tanto e sì fondamentalmente sono questi poi poi dipende l'ispirazione magari ti viene in un posto sono stato a Los Angeles e mi veniva tantissimo da scrivere lì però lì mi veniva per dire da scrivere canzoni cioè nel senso dipende anche il luogo che cosa ti un po' ti stavo a Los Angeles dove scrivi un film e stavo là scrivi canzoni perché infatti non ho mai scritto quel film ho scritto un sacco di belle canzoni in inglese che nessuno sentirà mai perché giustamente quindi il momento che stai vivendo rispecchia un po' i tuoi scritti la tua penna perché tu mi dicevi volevi essere un attore ma concretamente stai vivendo il momento della tua penna sì in effetti dai sì io volevo essere un attore infatti questa cosa mi fa sorridere che è un po' incavolare di base cioè il fatto che tutti mi dicono ah ce l'hai fatta in qualche modo cioè adesso vedi fai quello che volevi fare vedi lavori in quello che ed è vero perché si immagina il contesto di cinema però no io mi considero costantemente un fallito perché io volevo essere un attore duro puro cioè non volevo fare scrivere io volevo essere l'attore come non lo so un attore e basta bravissimo chiediamo di nuovo in mezzo Borghi sì no però volevo essere bravo a recitare serio chiamato perché ti vedo bene in quel ruolo invece ho dovuto trovare un'altra strada per entrare adesso lo faccio mi dicono ti vedo bene in quel ruolo io non sono il tipo che andava ai provini e superava i provini dicendo no sì voglio prendere te sono il tipo che per anni ho fatto provini e nessuno mi filava quando ho iniziato a scrivere le cose mie a darmi un colore a un colore a recitare anche le cose mie sono stato apprezzato per la visione che davo io di questa cosa tra l'altra parlavo con un mio amico e mi ha detto una cosa molto interessante che mi ha detto che se uno sceglie te per un film non sceglie te perché per farti fare quel ruolo perché sa che sceglie un'interpretazione di quella cioè sa già che prende Francesco personaggio non che prendo Francesco e lo plasma a fare quello ma che io gli darò sempre una mia impronta è un complimento da parte sua è anche in verità appunto il frutto del fallimento del fatto io voglio essere il miglioratore invece io non sono bravo a recitare nel senso penso poi alcune cose di più alcune cose di meno io volevo essere il più bravo del mondo a recitare e invece il mio talento è nello scrivere quindi crea frustrazione questo e il bello è quando metti in mezzo poi le due cose cioè scrivo delle cose che sono adatte a me e quindi divento bravo a recitare oppure mi danno delle battute per una cosa e mi danno la possibilità di modificarle in qualche modo e di rendere più mie e divento più bravo diciamo a tutto però si si sono alternate in maniera strana tutte queste dalla scrittura alla recitazione la regia e quindi non lo so quello che faccio faccio un po' tutto e sono contento di farlo però forse questa insoddisfazione di non essere riuscito a fare quello che avrei voluto proprio fare fortemente è anche la cosa che mi che mi dà sempre un po' la spinta per andare e poi io so che comunque non sarò mai soddisfatto nella mia vita proprio per come sono io di indole cioè posso vincere anche dieci oscar sono sempre un po' un po' depresso un po' così ma perché sono così perché sì ma appunto per quelle a cui mi ispiri cioè in senso io non sono proprio so che posso fare anche le cose più belle del mondo ma avrò sempre qualcos'altro da ricercare quando avrò ottenuto quello non mi basterà ma non in maniera di ah vedi quanto è bravo questo è sempre alla ricerca di qualcosa a livello di insoddisfazione però è proprio questa insoddisfazione che spesso mi dà la voglia di scrivere di creare altre cose di continuare in questa strada fondamentalmente non mi sento mai arrivato e non ci sentirò mai neanche nel momento neanche che vinco un oscar cioè dirò sti cavoli cioè adesso devo fare un'altra cosa ma non appunto non è una cosa bella è una cosa di insoddisfazione mia di carattere non è quanto è bravo questo e dice non gli basta mai cioè però può essere anche un modo per dare sempre di più esatto sì sì quello spero che sia infatti comunque hai dato anche il massimo quando hai scelto il cast per il tuo film che hai avuto carta bianca e quindi ritornando a bomba sul concetto di scegliere il personaggio per la persona che è e interprete hai usato questo cioè il modus operandi con il quale tu hai scelto il tuo cast è stato quello di cui abbiamo parlato finora sì assolutamente il cast del film è stata un'altra benedizione perché appunto io avevo scritto questo film e alcuni attori già avevo in mente a chi farli fare il ruolo che avrebbero fatto l'immaginavo poi alcune cose sono cambiate in corso d'opera però avevo scritto dei personaggi dei caratteri ben chiari spesso si usa nel cinema di scrivere dei film o scrivere dei personaggi e già sai chi è l'attore tipo stiamo a fare questa cosa e ci reciterà se ti dicono ci abbiamo questo film Matt Andrea Borghi Marinelli e Madilde Gioli creiamo un film a me questa cosa mi ha sempre fatto un po' rabbrividire perché dico come creiamo un film su di loro scriviamo un bel film e troviamo dei bravi attori è un po' questo poi il problema anche per cui gli attori sono sempre un po' gli stessi si ripetono è così perché poi la gente va a vedere le facce che riconosce è inutile starsi tanto a incavolare perché quando poi fanno il film che vince la palma d'oro e ci sono tutti attori emergenti non va a vedere nessuno quindi e ci vuole un'intelligenza anche nell'appunto formare i cast e cercare di dare entrambe le cose io ho scelto tutti gli attori che venivano dal teatro innanzitutto perché volevo fare un film con scene lunghe cioè volevo esprimere concetti gli ho fatto fare delle prove a tavolino come stessimo a teatro appunto quindi è stato molto interessante e la scelta è stata in piena libertà che sì io volevo dei personaggi io volevo i miei personaggi che avevo scritto non volevo delle facce cioè volevo parlare con loro capire quanto avevano durante i provini abbiamo fatto un sacco di provini e devo dire mi ha aiutato ed è stato un angelo Iozzo Tokuda che è stato il casting director che è un importantissimo casting director tutti i figli di Verdone cioè uno è una spada nel campo e anche umanamente è una persona meravigliosa perché poi questo mondo è sempre un po' falso un po' strano invece Iozzo è sempre stata una colonna per me proprio se c'è un consiglio se c'è un consiglio e mi ha aiutato tanto nella scelta degli attori perché poi se un regista che sa l'opera prima è tutto tipo ah sì chi è questo cioè nel senso non è che ti danno troppa troppa attenzione però io ero anche contento perché io non volevo i grandi nomi non volevo io volevo della gente giusta quindi abbiamo fatto questi bei provini ed è uscito fuori per me un cast pazzesco perché erano tutti perfetti erano tutti giusti e era chi più famoso chi meno famoso non mi interessava cioè volevo che il risultato finale fosse quello e sono stato molto molto fortunato perché poi nella sfortuna diciamo perché ho finito di girare il mio film ed è iniziata la pandemia tipo in tutto il mondo quindi è stato difficile poi lavorare tutta la post produzione il discorso ma nel corso di questi anni alcuni attori hanno fatto delle cose che sono diventate molto popolari e quindi sono diventati loro come Matilde Gioli per esempio come Elisa De Usanio come Silvia D'Amico sono diventate tre superstar del cinema italiano e quindi quando il film era finito io avevo tre superstar del cinema italiano dentro già lo erano sapevo che erano delle promesse incredibili che erano bravissime però io ho lavorato sui personaggi cioè non le ho prese perché erano Matilde Gioli Silvia D'Amico Elisa De Usanio e sono stato fortunatissimo che in quell'arco di tempo in cui non si è lavorato e non si è fatto sono andato in onda cose che avevano fatto e loro mi hanno dato un valore e adesso sembra un film con tutto un cast di cartellone con nomi di cartellone e lo era anche prima ma in verità poi cioè in senso diciamo sono stato fortunato per questo quindi ho fatto delle scelte e poi si sono rivelate buone Senti io ti volevo chiedere ma invece sotto il punto di vista del web parlando proprio di pandemie come la vivi tu questa spettacolarizzazione un po' della vita a 360 gradi cioè non solo delle cose positive belle entusiasmanti ma anche di quelle negative e degli orrori insomma che in realtà abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni ma penso io penso che sia nella natura umana poi cercare di di ci sono due modi di farlo quello per speculare quello per dare in un certo senso una cioè per ottenere qualcosa farsi vedere che tu è o quello per comunicare per dire adesso è nella natura umana comunque mostrare raccontare prima si raccontava a voce c'erano i pettegolizi di quartiere c'erano Pasquino che scriveva le Pasquinate c'è sempre stato un modo adesso c'è il web ed è ovvio che ognuno che ha in mano un oggetto che può riprendere che può fare cerca di dare la sua il problema è quando dai la tua che non corrisponde per niente alla realtà dobbiamo ringraziare che ci fanno vedere quello che sta succedendo nei luoghi dove c'è la guerra e quello che ci fanno vedere che ci fanno vedere delle cose perché altrimenti non potremmo saperlo e infatti tutte le cose peggiori che sono successe nella storia era perché non si sapeva fondamentalmente adesso si sanno tramite la comunicazione che è anche troppa però le cose si sanno bisogna sì essere in grado di capire qual è la realtà e quali sono le cose che ti vogliono far credere fondamentalmente e mi rendo conto che non è facile soprattutto per i ragazzini io poi ho 34 anni appunto e sono fortunato tra virgolette nell'essere nato esattamente in un periodo di mezzo tra quello che era il nulla di queste cose e il tutto di queste cose cioè nel senso io so che c'è ancora un mondo reale e c'è un mondo digitale i miei genitori pensano che c'è un mondo reale che il mondo digitale è una cosetta così i ragazzini pensano che c'è solo un mondo digitale quindi la fortuna della mia generazione è di sapere che esistono entrambe le cose e di saper distinguere e di dire ok sto su instagram poi un po' per lavoro anche io lo devo fare in verità odio mettere in mezzo me stesso le mie cose ma più che l'odio non mi va cioè sto vivendo una cosa non gliela faccio adesso fai il video stiamo qui e lo dovrei fare perché poi ho tutti e mi dicono ah devi farlo perché tu vuoi follower le cose quindi non ti forzi assolutamente a scendere la tua parte professionale quindi che fa parte anche del web alla tua vita privata a dividerle sì a scendere le due cose oggi sono un po' indivisibili fondamentalmente cioè nel senso sì poi è chiaro che do un'immagine di me e magari chi mi conosce bene sa che è diversa e si è tipo ragazzi oggi mi scrivono ma come cavolo parli a falso però però sì penso che avere un equilibrio in queste cose sia la cosa più importante io non ce la faccio a mettere tutto ma forse anche perché non è che ho cose così interessanti da dire sempre tutto il giorno quando cammino le cose belle quando sto in una spiaggia meravigliosa col mare che si al tramonto che è sono felicissimo di fare una storia di farla vedere a tutti ma se sto in salone a casa mia a vedere me do son cric che fanno le repliche ma perché devo e comunque lo faccio spesso soprattutto con do son cric caccio le storie però perché dovrei farlo quindi dipende anche quanto uno può essere interessante sì è una cosa con cui ci sta rapendo ci sta dando una visione anche sbagliata spesso dico io mi levo Instagram perché vedo le persone dico quanto è felice che vita meravigliosa che fa questo poi lo becco e dico ah ma stai malissimo fai schifo in depressione quindi è anche quello che ti infatti adesso smetto di seguire quelli che mi fanno perché vedo le persone e mi sento male dico io non valgo niente rispetto a questa persona poi non è vero e quindi per chi c'è tutta questa finzione bisogna essere bisogna fare un passo indietro bisogna insegnare soprattutto ai ragazzini a chi è a fare un passo indietro rispetto a questo che se no non se ne esce se no veramente cioè ci condannano a un'infelicità non so come dire ieri ci pensavo ieri che dicevo che Instagram è come una droga cioè una cosa che tu sai che la apri e non è che ti fa bene cioè mai ultimamente se io apro Instagram non so lo apro perché è una cosa che faccio abitualmente metto a guardare cose e dico ah questo sta meglio di me ah questo è molto più felice di me questo è da paura poi una cosa dico ah questo gattino che carino poi questo sta meglio di me questo sta meglio di me e è davvero come una droga e mi chiedevo ieri me lo chiedevo proprio ma perché cavolo continuo a aprirlo se mi fa sempre stare male mi fa stare a disagio fondamentalmente e mi fa sentire meno di quello che sono non è molto meglio che vado in giro a fare una passeggiata sì è molto meglio e te l'ho pensato ho aperto Instagram ma continuo a scrollare perché è così è una droga che va conosciuta oppure hai fatto una storia ho fatto anche molte storie esatto perché comunque è una dipendenza ho fatto una storia per dimostrare che io stavo meglio di tutti quelli ma invece stavo peggio è così è sì è così è un fake è un fingere continuo un continuo che cosa ti aspetti lavorativamente ma a questo punto anche emotivamente e individualmente nel futuro e dal futuro allora emotivamente non mi aspetto nulla nel senso sono guarda nel film una una delle frasi del mio film che mi piace di più che ho scritto io quindi vabbè però però mi piace perché ci ho pensato tanto ho riflettuto tanto su questa frase la dico io stesso nel film è la prima frase che dico io a metà film quando arrivo e dico e c'è un personaggio Silvia D'Amico che fa non è vero la gente non cambia in un momento molto duro e io dico non è vero si cambia si cambia così tante volte e così profondamente che quando stiamo per rendercene conto siamo già altri cioè siamo già altre persone che credono che non cambieranno mai e quindi dico che è inutile che adesso io dico voglio aspettarmi cioè capace che io tra cinque anni farò il pittore cioè nel senso ho smesso di chiedermelo e di inseguire le cose che mi rendono felice cioè no ho smesso di inseguire ho smesso di chiedermi che cosa farò e come andrà e ho deciso di inseguire le cose che mi rendono felice che mi indipendentemente da quelle che sono appunto volevo fare l'attore non sapevo che invece avrei iniziato a scrivere non sapevo che invece poi avrei iniziato avrei fatto il regista non so quello che farò cioè il mio sogno è scrivere un libro un romanzo bellissimo tipo così però sono troppo pigro per farlo ma inizio e non lo porto mai a termine quindi non lo so non so cosa aspettarmi emotivamente artisticamente artisticamente spero di fare un altro film che ho in testa che mi piace tantissimo l'idea e spero di continuare anche così fondamentalmente perché si è creato un bel gruppo di lavoro anche con tanti amici con cui abbiamo iniziato insieme e che siamo sinceramente amici ed è bello cioè portare avanti poi delle parlo appunto le coliche l'iliana fiorelmi che la giro un sacco di di persone a cui voglio bene con cui lavoriamo e mi piacerebbe continuare a lavorare con questa presa bene diciamo con questa quanto è importante avere in questo settore dei legami stretti cioè in questo senso così è importante è importante ma è anche difficile cioè nel senso è quasi impossibile ma è difficile anche stare che so insieme a una persona che fa il tuo stesso lavoro cioè nel senso si crea per forza una una sorta sempre di competizione o di sta andando bene a te vuol dire che va male a me oppure ho visto che stai facendo quello bravo quindi c'è sempre un po' una falsità i rapporti più belli sono nati nel momento in cui non c'era non c'era un minimo di successo da parte di nessuno di quelli che faceva questo questo lavoro appunto e per questo dico che mi piace continuare a lavorare nella nell'innocenza che era perché appunto con Michela siamo migliori amici da quando Michela Girò che appunto è una comica che mi ha spaccato siamo migliori amici da sempre e il fatto che stiamo crescendo insieme e che ci chiamano magari per fare delle cose insieme è bellissimo i rapporti che si creano dopo sono lavoro fondamentalmente però è molto difficile è molto raro avere infatti i miei amici le persone che frequento cerco sempre che non facciano parte di questo mondo ma non perché perché poi c'è sempre quel doppio livello che è un peccato però dipende sempre comunque dalle persone perché sembra spettacolo ma in ogni campo è così ci sta gente coltellata dietro e ci sta l'amico che appelle da un momento all'altro dici questo sarà il mio migliore amico per sempre e quindi fondamentalmente sì in questo campo è capace che col tuo migliore amico ti ritrovi a far provino con lo stesso ruolo e quindi a quel punto ti batti il 5 che vinca il migliore esatto che vinca il migliore dovrebbe essere così poi c'è chi ti fa ti posso offrire un caffetto e ci mette dentro il cianuro però teoria teoria no non andrebbe fatta allora io ti avrei fatto questa domanda vorresti scrivere un libro un romanzo non hai un'idea in mente un mini spoiler anche se te lo vorrei chiedere anche sul tuo film guarda ce l'ho no sul film non posso dire se no posso dire che è una storia pazzesca veramente è bene quando esce facciamo bene no perché veramente io poi non sono così dico sempre regà vi pare che mi devono rubare l'idea tutti dicono no no ma assolutamente tutti fanno no no tu non di niente io dico ragà ti pare invece questa non la so si bella non voglio dire nessuno no no sul libro ho iniziato un sacco di volte a scrivere delle cose e però appunto sono pigro e li chiudo sempre velocemente e diventano racconti durante la quarantena ho creato una pagina su facebook ma non avevo manco messo il mio nome era proprio così si chiamava i racconti della quarantena e mi mettevo spessissimo a scrivere dei racconti e li pubblicavo e un sacco di gente li leggeva è stata una super soddisfazione e adesso sono stati e poi ho vinto un premio letterario con questi racconti e ora sono tipo quattro giorni fa mi hanno chiamato che è uscita una raccolta stampata in un certo senso il mio primo libro e ora me li mandano a casa infatti sono super felice però appunto erano tutti che tipo iniziavo a scrivere la cosa e dicevo questo sarà il mio primo romanzo poi io no vabbè lo chiudo non è vero lo chiudevo la storia anche perché io sono molto non so come dire ma impaziente ma mi succede su tutto se cucino se scrivo io voglio subito 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 il risultato voglio subito vedere come è la cosa sì pure attivamente mi sono messo a fare cose con la creta ma sono pazzo faccio dire le sculture poi voglio subito vederle finite e le dipingo ancora fresche le rovino non mi piace aspettare non puoi fare il pasticcere mi chiedo come abbia lievitato la tua pizza in quarantena perché ne facevo così tanto e mi dimenticavo no però mi piace subito avere la cosa la cosa in mano e quindi il romanzo invece è una cosa che richiede tanto tempo tanta pazienza tanta attenzione dedizione concentrazione e invece quindi no io voglio fare la professionale perché mi era appuntata qualcosa che non mi ricordo perché ti ho chiesto trappegate mi hai lasciato trascinato cioè mi hai proprio trascinato in questo fiume di parole mi è portata a parlare e tu bevi nella vita? no ah che te lo mostro a chiedere nella vita mi sa di sì capita ah ecco questa era la domanda quella professionale se secondo te in quest'epoca rispetto al secolo scorso il lavoro del regista è cambiato o in qualche modo deve essere sempre un artista poliedrico è cambiato tantissimo il lavoro del regista ed è una cosa che per me è molto frustrante perché ne parlavo con delle persone dei miei amici l'altra volta ci dicevamo che la nostra aspirazione massima oggi cioè prima il regista D'Avà Muccino Ospetec Sorrentino Tornatore e ti parlo di questi diciamo contemporanei hanno avuto la possibilità di dare un loro colore di dare una loro forza alle cose finché escono adesso i giorni registi sono per lo più tutti uguali o comunque sono una grossa produzione che ti prende di far fare quella cosa io sono stato fortunatissimo a poter fare il mio e a dargli il colore che volevo e a dargli un tono mio ma so che non potrà durare troppo questa cosa perché penso che il massimo a cui posso aspirare adesso da regista è fare la regia della puntata 8, 9 10 e 11 di Gomorra 9 ed è davvero il massimo oppure ti chiamano guarda faccia stasera di Netflix la regia è tua e di quest'altro e una puntata per uno queste cose che ed è quello il top raggiungere oggi cioè fai la regia di Suburra però quanto sarà mai mia quella cosa è questa la cosa che un po' fa perdere dici ma ma che palle ma perché io adesso cioè tipo non posso fare cioè un film di Ferzan Ospetek lo riconosci in qualunque momento vedi un minuto e dici sto film è di Ospetek e invece oggi sì cioè nel senso il mio film ho potuto farlo è stato un miracolo magari succede un altro miracolo ma a me nella vita mi capitano i miracoli comunque devo dire credendo che in un mondo in cui tutti vogliono essere semplicemente visti tu vuoi essere sentito che ha molto più senso sì cioè preferisco preferisco che guardino la mia cosa e che pensino a quella piuttosto che a mettere poi sono anche ovviamente uno fa l'attore quindi sono anche molto pieno di me da morire però ho capito anche che in verità la fama e il voler essere riconosciuto e il voler essere ah è lui e lui c'è di meno cioè preferisco di più essere riconosciuto attraverso le cose che faccio quindi sì cioè nel senso anzi mi ha dato anche nel momento appunto dei video virali di youtube che capitano gli hanno le foto ti fermano credevo che quello fosse il punto d'arrivo e invece l'ho visto anche in modo un po' antipatico cioè nel senso tipo forse era anche per quello che non era la cosa che credevo fosse infatti capita un po' di volte ti ho visto a teatro tipo sei venuto al teatro ma che bello essere riconosciuti per quello fondamentalmente però però sì cioè non so più adesso per me è veramente il prodotto che faccio la cosa che deve raccontare di me non chi sono io chi fingo di essere io chi voglio far credere che sono perché poi nel momento in cui scrivi una cosa c'è poco da mentire quella è quello sei sì e soprattutto appunto vorrei avere un mio stile riconoscibile nella scrittura nella regia anche nei toni della recitazione cioè nel senso per me mi piacerebbe essere riconosciuto mi piacerebbe avere un colore non essere semplicemente famoso o mi piacerebbe anche magari piacere a meno persone ma che ti dà qualcosa a quelle persone di che colore sai? qual è il tuo colore? nero no è un verde bottiglia un verde scuro un verde scuro sì con toni di nero più o meno ti avrei detto arancione guarda l'arancione è un bel colore l'arancione è vero è un bel colore perché è anche un po' malinconico perché io sono molto malinconico anche cioè sembra allegro ma è malinconico pure l'arancione a me ricorda il mandarino che è super buono però è anche molto ospro e se ci trovi insieme alla fine lo sputi senti Fra è stato super bello parlare con te e fare questa intervista quindi io ti ringrazio spero di non avervi ammorbato no no è stato bellissimo essere in compagno di Francesco siamo su RTV racconti di vita e questa è la nostra seconda puntata e grazie a te grazie a te grazie a te